Visto che me lo chiedete in tanti, farò diversi video dove parlerò dei prodotti che uso in toilettatura e che poi ho in formato piccolo per la vendita. Ogni shampoo che noi vendiamo è sempre con il proprio balsamo, quindi ogni shampoo che voi comprerete sul sito ci sarà compreso nel prezzo anche il balsamo. Ripeto che il balsamo va usato su tutti gli animali e su tutti i tipi di pelo, quindi pelo corto, pelo medio e pelo lungo, hanno sempre bisogno dello shampoo. Qui oggi abbiamo la linea Vanesia che è una linea basic e vi inizio a spiegare prodotto per prodotto. Il balsamo per questa linea è universale, quindi per ogni tipo di shampoo della linea Vanesia c'è un balsamo che va bene da abbinare a tutti questi tipi di shampoo. Iniziamo dal shampoo alle alghe, che è per un pelo medio e ha come estratto estratto di miele. È uno shampoo che svolge un'azione districante e ammorbidente sul manto di tutti gli animali a pelo lungo. La modalità ovviamente di applicazione è bagnare il pelo nell'animale con acqua tiepida, applicare una quantità adeguata di shampoo, massaggiare come facciamo sempre noi nei video energicamente risciacquare e poi andare a applicare questo balsamo. Ve lo spiego adesso, così poi non lo spiego più per ogni shampoo, visto che è unico per tutti gli shampoo. Questo è un balsamo alle erbe con estratti di miele. È adatto ad ogni tipo di pelo, quindi sia cani che gatti, pelo corto, pelo medio o pelo lungo. La sua azione, oltre a rinfrescare la cute, rende il pelo morbido e facilita quindi il pettinare. La modalità di applicazione è applicare dopo aver lavato l'animale con lo shampoo, sempre con la linea vanesia, lasciare in posa dai 2 ai 5 minuti pettinando il pelo e quindi poi risciacquarla abbondantemente. Questo lo faccio sempre, per ogni tipo di shampoo e balsamo pettino sempre l'animale quando imposa. Andiamo poi con lo shampoo al ginseng. È un rinforzante con estratto anche lui di miele. È uno shampoo adatto a tutti gli animali soggetti ad indebolimento e perdita del pelo e la modalità di applicazione è uguale a tutti gli altri. Abbiamo poi lo shampoo al bambù per pelo corto con estratto di miele, che è uno shampoo ideale per cani e gatti a pelo corto. La sua azione emolliente e nutriente rende il pelo molto luminoso. Abbiamo poi lo shampoo alle erbe, rinfrescante con estratto anche lui di miele. È adatto ad ogni tipo di pelo. È uno shampoo di gradevole profumazioni, le cui essenze di erbe rinfrescano e tonificano la cute dell'animale. Poi abbiamo lo shampoo al tè tri, che è uno shampoo adatto per l'igiene di tutti gli animali domestici. Grazie alle benefiche e proprietà lenitive, purificanti e rinfrescanti del tri tri, contribuisce ad attenuare le irritazioni della pelle e a ripristinare l'equilibrio cutaneo, favorendo così una creazione di una barriera naturale contro insetti e parassiti. L'ultimo è uno shampoo per manti bianchi. Lo shampoo per manti bianchi elimina il colore giallo dai manti bianchi di cani e gatti. Svolge un'azione sbiancante senza aggredire il pelo e la cute dell'animale. Non contiene sostanze ossidanti. Le sostanze ossidanti sono le sostanze che ossidano il pelo e che quindi poi vanno a creare rossore nel pelo bianco dell'animale. Questa è la linea vanesia, la trovate sul sito e questa appunto è la nostra linea basic, compresa sempre nel prezzo di shampoo e balsamo. Per qualsiasi informazione rimango a vostra disposizione.